Per la prima volta quattro fondazioni bancarie molto impegnate in iniziative di sostegno alle attività economiche e sociali del territorio toscano mettono insieme le loro risorse e inaugurano un'importante collaborazione per aiutare lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative. Il frutto di questa intesa si chiama Toscana Next con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per sostenere l'economia, l'innovazione e lo sviluppo del territorio toscano. Le fondazioni coinvolte sono CR Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, MPS e Carit. Il fondo opererà coinvestendo sistematicamente insieme ai fondi gestiti da CDP Venture Capital ogni volta che saranno individuate iniziative meritevoli sul territorio della regione toscana. Dovrebbe essere l'inizio di una continua innovazione del territorio e questo è sicuramente il segnale più importante. avere come interlocutore CDP, che è comunque il personaggio principe degli investimenti italiani e quindi degli investimenti anche di sistema, è stato un grande successo.